La passa all'acqua Ragusa torna in campo stasera alla Pala Minardi. A 48 ore da gara 1 che ha visto le bianco-verdi superare Venezia, i due quintetti tornano ad affrontarsi sul parquet ragusano. Gara delicatissima perché Venezia può chiudere definitivamente la serie ed acquisire il diritto a disputare la finale play-off scudetto, mentre Ragusa può annullare il secondo match point e giocarsi tutto nell'eventuale gara 5 che è fissata per sabato alla Pala Tagliercio. Ragusa arriva con il molare alto e la consapevolezza di poter ancora prevalere sull'Euro Granata dopo la prima vittoria ottenuta in 5 partite tra campionato e play-off. Un successo pieno, ben 17 punti di vantaggio, maturato grazie alla velocità di gioco, alla difesa compatta, alla ritrovata precisione al tiro e alle certezze che Jessica Caster, Derica Embi ed il lotto delle italiane hanno saputo dare nelle varie fasi della gara. Dopo aver perso San Martino abbiamo perso una sola partita e non l'abbiamo perso mai, guarda casa a Venezia. Negli ultimi mesi abbiamo segnato 90 punti facili con tutti, quindi ha colpito anche noi questa batosta presa da Venezia. Secondo me non eravamo abituati a lottare punto a punto su ogni pallone, ad andare sotto di 4, sotto di 10 e quindi questa cosa l'abbiamo pagata anche alla seconda partita. All'inizio eravamo nervosissimi e si vedeva abbiamo sbagliato anche cose abbastanza semplici e nello spagliatoio ho soltanto detto che la strada era quella giusta, che bisognava avere un'attività di tranquillità e di fiducia in più e che le cose sarebbero andate meglio. Poi uno può dire quello che vuole ma le cose devono succedere e siamo stati bravi a farlo succedere. Ho cambiato il quintetto iniziale della seconda parte, cose che io non faccio quasi mai, raramente io cambio il quintetto. Però è chiaro che Romeo ci dà molta più pericolosità in attacco, però Soli ci distribuisce molto meglio i palloni e ci tiene molto più in difesa. Quindi bisogna indovinare il momento, non sempre è facile, bisogna indovinare il momento in cui farlo. Questa volta è andata bene, speriamo che l'avevo messo anche Cinilli all'inizio del secondo quarto che generalmente non parte in quintetto, quindi sicuramente questa scelta ha pagato perché abbiamo preso il break subito ma le squadre grosse all'inizio del terzo quarto danno sempre un'impronta alla partita. Anche il duo MB-Caster comunque sembrava proprio rimigorito. Sì, ma perché è strano, perché non è che queste ragazze tu gli puoi addebitare qualcosa a livello di impegno. È chiaro che ci siamo trovati in difficoltà a Venezia e oggi hanno risposto da par loro dimostrando che sono delle grandi giocatrici.